Secondo lei di chi è la responsabilità? Grillo e Casaleggio. Per il futuro che si aspetta? Io spero di riuscire a, visto che non sono riuscito a impostare, a migliorare dal mio punto di vista il Movimento 5 Stelle, a fare un Movimento 5 Stelle senza Grillo e senza Casaleggio, anzi un Movimento 6 Stelle, dove la 6 Stelle è la democrazia reale. Dicono che lei abbia già pronto...